eccomi 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 buonasera amici amiche rossoneri ragazzuoli belli e ragazzuole belle buona serata di questo mercoledì 7 settembre 2022 e vai le notizie sono belle fresche ore 18 e 48 anche se registrate come dico sempre e buona giornata del giorno dopo di giovedì 8 settembre 2022 vi mando un abbraccio a tutti allora ragazzi avete letto un titolo un po insolito per mia abitudine dei titoli che io metto parlando di mila non so di calciomercato piuttosto di altre cose ma perché è un video un video breve di riflessione allora io voglio precisare subito che mettendoci io la faccia e vabbè rispetto a parlando nelle vostre confronti che siete dietro monitor e sulla tastiera del vostro telefono o computer ma sono io che ci metto la faccia preciso preciso subito che questo video non è un video col sapore di maestrino io che devo fare insegnare devo insegnare qualcosa a qualcuno nel suo modo di pensare no non sono un maestrino non sono mai stato qua per fare il maestrino ma per dire per rivelarvi il mio punto di vista le cose che so fatta questa prefazione semplice voglio dire in modo proprio sintetico e sincero perché io penso comunque che in video non solo qua in youtube ma anche in televisione nella tv via cavo come si suole dire no quella pagamento piuttosto che ci sia sempre tanta ipocrisia persone che vogliono fare i buonisti vogliono fare i moralizzatori con un senso sempre di buonismo con termini forbiti per girare intorno all'argomento e dirti in realtà quello che pensano io invece lo dico in modo diretto a volte magari anche un po forte però sempre con un certo tono penso di minima educazione no allora a quei tifosi pochi tifosi perché da quello che ho capito non sono tanti perché io lo guardo dai commenti che praticamente secondo loro hanno il loro diritto di dover dire loro addirittura oggi ho letto una frase che mi ha lasciato io non rimango più io ve lo dico sinceramente se mi vuoi credere bene se non mi vuoi credere a fare i tuoi io non mi sciocco più di nulla ma neanche se in questo momento vedo un marziano un extraterrestre che mi arriva dal pianeta da un'altra galassia al di fuori della lattea cioè della nostra galassia lattea e mi dice sono appena arrivata un'altra galassia mi fa vedere la strana non me ne frega più una mazza perché tanto qua oggi come oggi con fin di fantascienza con la conoscenza che abbiamo piuttosto che e capendo come sono fatte certe persone purtroppo ormai di che cosa ti devi più stupire ma di che cose ci dobbiamo più stupire io personalmente mi stupisco più di una mazza con questo non vuol dire altro io mi stupisco delle cose belle della vita quelle mi stupiscono ancora in senso generale dico delle cose belle ma delle cose diciamo meno belle piuttosto che mediocre piuttosto che insulse e banali non mi stupisco più ma il marziano è una cosa bella conoscere un'altra civiltà ci mancherebbe però era per rendere un senso generale della cosa bene finita questa prefazione io ho quei pochi milanisti che ieri hanno criticato io lo dico a quelli che hanno criticato ferocemente perché qualcosa ho letto adesso vi dico una cosa che mi è rimasta impressa dico andate a quel paese cioè voi tifosi milanisti avete criticato ferocemente il nostro mina ieri sera contro lo salisburgo a salisburgo andate tutti a quel paese e dei vostri giudizi nei miei confronti piuttosto che della vostra moralizzazione me ne faccio un baffo vi metto dentro le mie tasche andale e menare ma menare dovete menare a gambe elevate allora c'è un tizio che ha scritto queste testuali parole le ho imparate a memoria e adesso vi dico anche voi da chi da questi pochi tifosi milanisti siete lavati nel vostro cervello questo tizio ha scritto a me non sta bene questo risultato contro salisburgo perché abbiamo giocato proprio da schifo ma da che più schifo non si può un derby quando lo vince la grande come ha fatto il nostro milan praticamente vai a salisburgo con entusiasmo pazzesco fai 90 minuti a correre come un cavallo li distruggi e porta a casa i tre punti mazza addirittura e io conosco aggiunto anche io conosco di calcio tutti quelli che dicono il contrario cioè compreso me ovviamente l'ha riferito a me non ci capisce una mazza bene bannato perché bannato perché io ve lo dico sinceramente l'avevo detto poco tempo fa io ragazzi chiamatemi intollerante chiamatemi dittatore chiamatemi come volete ma non ce la faccio più a leggere certe banalità non ce la faccio più a leggere certe banalità cioè certe banalità l'ho detto poco tempo fa mi annoiano mi scocciano mi stufano mi fanno sbuffare perché dietro un'affermazione del genere non c'è una costruzione logica di un senso logico allora dico subito che qui non c'entra niente se io ho fatto sport che l'ho fatto in tutta la mia vita lo faccio ancora oggi se qualcuno ha fatto sport ha giocato al calcio io dico solo una cosa si tende a pensare che i calciatori che prendono tanti soldi di stipendio a certi livelli come nel nostro milan se non a livelli più alti come quelli del Paris Saint Germain che per me rimane sempre un club di figurine con rispetto parlando piuttosto che debbano essere questi calciatori che prendono tanti soldi rispetto a noi persone normale loro che sono milionari debbano essere questi giocatori come dei robot cioè praticamente tu fai una partita fantastica devi farne dopo tre giorni un'altra fantastica dopo tre giorni ancora ne devi fare un'altra fantastica dopo tre giorni ancora devi fare un'altra fantastica praticamente se sommiamo i giorni 3 6 9 compagnia cantante tu devi fare sempre in anellare dei risultati fantastici perché sei un calciatore strapagato perché sei milionario perché sei famoso perché sei il calciatore della squadra del cuore del tifoso io oggi sul discorso dei tifosi sono d'accordo con Mario Sconcerti tra poco ve lo leggo cosa ne penso anch'io dei tifosi perché io grazie a questo canale ho iniziato a capire e sto capendo tante cose siete l'aiuto della mia vita sì l'aiuto della mia vita nel capire nel migliorare il mio pensiero io questo vi dico grazie dico grazie a chi ma lo dico non lo dico per sbeffeggiare proprio perché questi soggetti non me ne frega nulla però un qualcosa me l'hanno dato me l'hanno dato per farmi capire la stupidità umana dico grazie a quei tifosi che mi hanno criticato ferocemente perché mi hanno fatto capire definitivamente la lo ripeto la stupidità umana dico grazie a quelli che comunque senza un senso criticano il nostro milan senza un senso non quando c'è un senso perché anch'io lo critico in video ho criticato ultimamente Pioli senza un senso perché dico ma vabbè allora questo mi fa capire che c'è proprio gente che non ha voglia di riflettere dico grazie a chi invece pone delle riflessioni ragionate anche contrarie alle mie ma io dico grazie veramente a questi perché mi fanno capire che ci sono persone con un ragionamento superiore al mio nettamente nettamente e dico grazie a tutti quelli che si sforzano di capire il mio pensiero perché dico voi avete una pazienza enorme siete persone speciali per cui ci sono quattro categorie a cui dico grazie quelli che non calcolo che per me possono anche andare a quel paese anche su Marte che proprio e tutti gli altri che vi ho appena spiegato il problema che ci sono dei giornalisti titoli giornali che scrivono queste cose questo è uno stralcio portato riportato in stampa con la mia stampante laser praticamente dalla gazzetta dello sport che oggi fa questo articolo la gazzetta dello sport milan questioni di ritmo e di sbalzi di rendimento che cosa insegna a salisburgo i rosseneri hanno reagito lo svantaggio ma non hanno offerto in champions la versione del axe del campionato era l'obiettivo minimo della trasferta austriaca del stato centrato il pareggio contro salisburgo consente al milan di iniziare la campagna europea con ragionevole ottimismo il tempo dirà se le difficoltà attuali del cessi cambieranno un po la gerarchia teorica del gerone bla 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 questa categoria di tifosi che io ho criticato adesso sono questi tifosi che si fanno prendere questi titoloni che leggono dicono mamma mia mamma mia mamma mia cioè praticamente si facciano la testa prima del tempo senza dover capire andate tutti a quel paese andate tutti a quel paese andate tutti a quel paese poi c'è un'altra cosa che no perché ragazzi e penso che sia implicito quello che ho detto no penso che sia implicito uno che pensa che dopo un derby come quello che abbiamo giocato contro l'inter non c'è uno svuotamento psico fisico ed è idioti ed è idioti ed è idioti pensare che la squadra sarebbe andata a salisburgo a correre come dei cavalli pazzeschi facendo il nostro gioco belli freschi con una rosa con un derby fatto due giorni prima quando salisburgo gioca in un campionato che rispetto alla seriana roba all'acqua di rose e il salisburgo è l'unica squadra che domina nel campionato austriaco giusto quando loro al contrario nostro nostro si sono fatti una bella passeggiata di salute e noi abbiamo dovuto sputare nel nostro impegno beh certo come dice quel tizio oligo bannato il derby ti dà un grande vigore per giocare a mille no beh certo i nostri giocatori sono dei robot sono dei robot creati dalla meccatronica e praticamente cosa volete cioè leavo hai capito tu sei un robot no devi correre a 200 km orari devi fare tutte le tue garoppate in tutte le partite e se non lo fai c'è qualche tifoso che ti sputa addosso pensa un po te cosa devo leggere io ragazzi no ma io non ci siamo non ci siamo il mondo è andato a puntini puntini oggi poi sconcerti fa questo editoriale perché adesso tra gli altri tifosi quelli che ti fanno altre squadre che sono invidiosi rosiconi nel nostro minano che molto probabilmente questi potrebbero andare d'accordo con quei milanisti che si lamentano sempre con quelli che non ci capiscono una mazza che non capiscono il processo di crescita di sviluppo della nostra squadra che non capiscono che i giocatori sono delle persone prima di tutto che non capiscono tante cose lo ripeto anch'io critico ho appena criticato poco tempo fa pioli ma su delle cose che mio modo di vedere era giusto criticare non ho criticato prima ho criticato dopo la partita chiaro e alcuni mi potrebbero dire noi abbiamo fatto altrettanto ecco lo salisburgo è un punto solo bene bene io dico solo una una cosa quante partite ci sono nel girone di andata cioè scusate nel nel nei gironi nei gironi di champions prima di arrivare agli ottavi quante partite ci sono non si pensa si va a raffica si scrive si butta tutto come dice sconcerti nel fuoco sconcerti dice perché è partita dagli invidiosi di altri tifosi di altri club è partita questa roba patetica di criticare de keteler che arrivato al mina non ha ancora fatto vedere una mazza il caca caca questi sono una massa di puntini puntini beh lo posso anche tranquillamente dire in modo proprio goliardico sfigati che praticamente devono scrivere tanto per scrivere perché lo avessero loro de keteler io de keteler lo difenderò fino alla morte finché rimarrà al mina ci mancherebbe perché si vede subito che giocatore è sconcerti scrive non conosco bene i tifosi e confesso che l'argomento mi interessa anche poco mi dispiace vedere un ragazzo come de keteler diventato in due settimane un oggetto quasi di scherno vedo il suo nome stravolto in una serie di offese mi sembra scorretto ingiusto perché non corrisponde a nessuna verità dice sconcerti de keteler è un fior di giocatore che ha giocato in belgio in troppi ruoli questo è vero è normale che in un calcio molto diverso molto più tattico trovi difficoltà vero gli esempi sono infiniti da platini a leao vi voglio ricordare e mi ci metto dentro anch'io quando vedevo leao lo criticavo dopo le partite dicevo ma questo carcola ma questo non fa una mazza ma mannaggia a te leao mannaggia a te mannaggia a te e poi mi sono dovuto rimangiare le parole ma l'ho detto in video de keteler però sempre con un tono abbastanza penso costruttivo su quello che leao comunque faceva de keteler è un giocatore raro dice sconcerti perché gioca un calcio puro e semplice pieno di classe e di idee e sarà sempre un affare per il minan perché quando dovesse mai rivenderlo riprenderebbe abbondantemente in europa i tanti soldi spesi per lui capisco che i tifosi non abbiano il dovere di contenersi e che buttare tutto nel fuoco sia sempre la soluzione più semplice vero tifosi vero mira poi quando sei un tifoso dietro al video a scrivere lo so no lo dico perché sono anch'io sono tifoso no sono anch'io uno che commenta dentro il video sono anch'io uno che vede altri canali però da quando ho il mio canale youtube mi ci metto nei panni devo anche comprendere ancora di più quella persona ma a parte il fatto che nella mia vita sono sempre stato uno abituato caso mai a giudicare anche ferocemente con dovuti termini educazione dopo dopo ma non mi sto ergendo santo perché io santo non sono però non sono ipocrita tanto è vero che questo video ne ha dimostrazione mi rendo anche conto che molti offendono subito dei cheteletici sconcerti perché ne hanno una forte paura preventiva ma c'è una competenza da salvaguardare una storia una tradizione da rispettare questo è un giocatore di potenzialità enorme che sia fuori posto è evidente ma mettereste la firma sul suo fallimento sconcerti dice scrive oggi io no questo è un video dedicato ad aiutarvi lo dico quei pochi che sono molto a riflettere con calma se proprio non ce la fate io simpaticamente dico sempre datevi all'ippica ma poi oggi ci ho pensato ma anche essere un fantino darsi all'ippica cioè tu puoi essere anche un tifoso di un fantino di un cavallo ma se non comprendi nel calcio che i calciatori non sono robot ma sono persone molto probabilmente anche se ti dai all'ippica sei stupido ugualmente se critichi il cavallo e il fantino senza calcolare che il cavallo è un essere vivente il fantino è una persona per cui datevi all'astrologia che forse è meglio forza milan sempre comunque ovunque è uno spettacolo vi saluto ciao ragazzi